c'è la nostra figlia dentro, esce un momento qua fuori, che se ora arrivo prendendo la nostra figlia, chi sta dentro quasi all'età mia e se volessi sposare la nostra figlia che tene 20 anni, io non sono d'accordo, piensaci tu, viratele tu ma che vieni, buongiorno, buongiorno, buongiorno signora, buongiorno, dunque mi presento immediatamente, io sono il fidanzato di vostra figlia, ci vogliamo tanto bene, abbiamo pensato di convolare a nozze, sono qui per chiedere la mano della ragazza, io per mia figlia non sono d'accordo, vedete mia moglie, ammorame nonna, preferisco la figlia, anzi vi dirò di più, se mi avesse cucca Ago boi, o qua emogero va ast, ma go kasi qui, o boi, ca gusdamo straba brutta